Nuovo podcast per parlare un po' di dividenti, anche nella puntata scorsa l'abbiamo fatto quindi per chi ancora non l'ha ascoltata vi consiglio assolutamente di ascoltare l'ultima puntata, precisamente la numero 209, quindi siamo alla 210 la puntata scorsa oltre alle altre puntate dove tra l'altro abbiamo parlato anche di dividendi per esempio quella dell'anno scorso, la numero 48, dove abbiamo parlato proprio di dividendi e parlare di dividendi guardate un anno fa dove nessuno voleva comprare azioni ricordiamolo, eravamo a inizio aprile del 2020, dopo il crollo i mercati erano ai minimi nessuno voleva comprare, invece c'era chi come noi diceva accumulate, continuate a comprare azioni da dividendo chiaramente non voglio incentivare nessuno, non sono consigli per gli acquisti né per le vendite, per dire però che c'era quelli come noi che dicevano guardate comprate e comprate soprattutto azioni da dividendo e soprattutto alcune di azioni tre di queste ne parliamo oggi, secondo me sono tra le migliori in questo momento penso che siano le migliori almeno a livello di solidità e di crescita costante nel futuro che poi è quello che ci interessa, cioè avere una rendita costante nel futuro chiaramente in crescita perché quella è la cosa più importante in assoluto quindi parleremo di queste tre aziende qui, o meglio le dirò poi sono aziende talmente conosciute che secondo me non c'è bisogno nemmeno di non c'è nemmeno bisogno di di fare un'analisi su queste aziende qua talmente che sono grosse e talmente che sono conosciute e solide più che altro quindi anzi accolgo l'occasione per dire che nei tutti quanti i 210 podcast cioè date un'occhiata perché troverete di tutto di più dalle criptovalute ai portafogli più famosi al mondo oltre agli investitori più famosi al mondo oltre chiaramente a fare analisi del mercato per esempio ci sono analisi del mercato quasi ogni mese se non proprio ogni mese dove si fa l'analisi proprio mensile quindi all'inizio del mese praticamente si fa una previsione di quello che potrebbe succedere perché ricordiamo che l'unica certezza che si ha nel mercato è l'incertezza quindi giochiamo un po' a fare le previsioni la puntata 206 se volete andare a vedere cosa avevo previsto per aprile potete andare a vedere ascoltare o meglio nella puntata 206 come potete andare a vedere per gli altri mesi i podcast sono datati quindi potete andare a vedere come potete andare a vedere per esempio la puntata del 15 febbraio dove tutti quanti compravano i mercati erano i massimi io dicevo guardate che l'Italia tra due mesi l'Italia andrà in recessione quindi sono tutti datati i podcast e chi li ha ascoltati allora ha avuto la fortuna di vendere un bel po' delle proprie posizioni e di scamparselo un po' da quello che poi è stato il crollo di marzo e poi c'è appunto la puntata numero 48 dove parlavamo proprio di azioni da dividendo ma ritorniamo a noi e parliamo un po' di quali sono queste azioni partiamo subito da una forse la più conosciuta in assoluto Coca Cola Coca Cola ripeto non ha bisogno di presentazioni però guardate certe volte nella semplicità si possono trovare le migliori soluzioni perché oggi come oggi nonostante i mercati siano andati molto bene nell'ultimo anno Coca Cola è una di quelle che ha sofferto di più perché? perché se i mercati sono molto alti è soprattutto grazie alle azioni tecnologiche e invece le azioni value come per esempio è Coca Cola secondo me hanno sofferto ancora un po' e possono crescere ancora un po' credo ancora un bel po' se noi pensiamo per esempio che Coca Cola in questo momento è ancora a meno 10% dal massimo che ha fatto nel pre-Covid con 60 dollari adesso è a circa 53 e beh questo ci fa capire quanto Coca Cola secondo me ha margini di crescita perché poi fondamentalmente il suo business non è cambiato certo ha avuto un po' di problemi dovuti al Covid però problemi relativi non è che non si vedeva la Coca Cola quando c'era il Covid anzi forse ne ha venduta di più visto che poi alla fine si doveva stare a casa e qualcosa si doveva bere oltre l'acqua chiaramente e purtroppo è evidente che invece non essendoci manifestazioni ha subito un evidente calo delle vendite ma momentaneo molto momentaneo e quello che però dovremmo andare a vedere noi è se l'azienda è solida in questo caso non c'è bisogno nemmeno di fare un'analisi fondamentale perché quando parli di Coca Cola il suo business è indiscusso è indiscutibile quindi non può essere scalfito minimamente da qui soprattutto a breve termine ma la storia ci dice a lungo se non a lunghissimo termine non a caso Coca Cola dà un dividendo in crescita da più di 50 anni e questo ci fa capire appunto che ha superato tutte le crisi possibili e immaginabili e quindi ha aumentato sempre il suo dividendo nonostante crisi maggiori di quella che abbiamo avuto a marzo e che ha avuto soprattutto Coca Cola a marzo tra l'altro un buon dividendo che supera il 3% quindi 3% lordo e ricordiamo che nel caso di aziende americane la tassazione totale che verrà tolta dal dividendo è 37,1% anche qui abbiamo parlato molto più di un'ora nel podcast 209 quello prima di questo qui per quanto riguarda i dividendi e quindi non riaffronto il discorso andiamo subito alla seconda azienda e parliamo di Trem un'azienda che mi sta molto cara per chi non lo sa per chi non mi conosce per chi non mi segue ce l'ho in portafoglio quindi non vi sto dicendo di un'azione che che non che non compro ecco molto semplicemente quindi questo a maggior ragione vi fa capire quanto io credo nel business soprattutto di questa azienda che è un business molto molto diversificato voi credo che forse non conoscono molti non conoscono 3M ma voi andate sul sito di 3M e andate a vedere cosa fa 3M vi renderete conto che voi quasi ogni giorno avete a che fare con 3M e non lo sapete praticamente cioè perché vende di tutto di tutto di più quindi un business davvero difficile da distruggere da annientare non a caso anche in questo caso dividendo da più di 50 anni anzi più di 60 anni nel caso di 3M quindi anche loro hanno superato tantissime crisi e ci hanno tenuto sempre a dare un buonissimo dividendo che anche in questo caso è superiore al 3% quindi stiamo parlando di tanta roba e anche qui secondo me ci sono tanti tanti margini di miglioramento se l'economia si riprende parliamo di economia reale chiaramente perché perché se andiamo a vedere il prezzo di adesso che è intorno ai 195 dollari andiamo a vedere quello che era nei massimi del 2018 cioè 260 dollari ebbè qui siamo a meno 20% e quindi anche qui in via teorica per raggiungere un'altra volta i massimi c'è un bel po' di strada da fare però è da un anno che praticamente il titolo è veramente in una grandissima fase un trend davvero un trend davvero long da un anno senza chietà direi perché è cresciuto praticamente sempre era a 125 adesso è arrivato a 195 diciamo che non c'è bisogno di fare molti molti commenti e stiamo parlando comunque di un anno dove l'economia ancora non si è ripresa del tutto anzi ancora molto parzialmente quando si riprenderà penso che possa davvero riarrivarci ripeto non sono consigli per l'acquisto è il mio pensiero un'opinione poi andatela ad analizzarla da soli passiamo subito alla terza azienda da dividendo e parliamo di Johnson & Johnson anche qui direi che non c'è molto da dire credo che in pochi non conoscono Johnson & Johnson altra azienda che è un dividend king quindi da un dividendo da più di 50 anni sempre in crescita perché questo significa dividend king cioè da un dividendo da più di 50 anni sempre in crescita e questo ha conferma di un'azienda davvero molto solida tra tutte e tre che ho citato forse questa è quella che ha subito l'impatto minore logicamente perché perché nell'ambito sanitario basti pensare solo che a differenza delle altre due Johnson & Johnson ha fatto pure un vaccino e quindi evidentemente i prezzi chiaramente non possono essere delle prime due che sono delle chiare aziende value quindi veramente sottovalutate in questo momento invece Johnson & Johnson è proprio una realtà è una realtà tra l'altro in un settore che non conosce molte crisi quindi è un settore abbastanza anticiclico però lo paghi nel senso che qui non parliamo più di vette massime perché continua a fare i massimi anzi è più da trattare come un'obbligazione sotto certi punti di vista vedendo lo storico di questa azione perché non vi dovete mai aspettare rendimenti altissimi però la sua rendita di circa il 2% ve la dà sempre ripeto parliamo di rendita solida ma spesso ne parliamo tra l'altro anche nel gruppo se ancora non vi siete iscritti iscrivetevi cambiare tutto cambiare subito previsioni sull'economia e la finanza perché trattiamo anche di questi temi qui che sono sempre importanti come per esempio per quanto riguarda i dividendi ripeto uno dei temi più importanti è il tema della tassazione perché perché un conto si compri in America dove la tassazione è 37,1 in totale è un conto per esempio si compri in Germania che qua arriviamo quasi al 50% giusto per dare una cifretta perché parlavo di questo perché io vi volevo fare un regalo ascoltate fino alla fine perché veramente è un regalo molto importante tra l'altro che non troverete facilmente da altre parti nessuno ve lo dà ed è molto importante se investiti in dividendi di cosa sto parlando sto parlando di una lista con tutte le tasse elencate per paese quindi in base al paese dove è residente chiaramente l'azienda lì si paga una percentuale di dividendo extra rispetto praticamente al 26% italiano e questo è molto importante perché una delle cose sicure che sappiamo è che dobbiamo pagare le tasse e sapere che per esempio in quel paese lì si paga zero tasse come per esempio in Inghilterra quindi tu fondamentalmente è come se acquisti un'azienda in Italia perché non c'è un'altra tassa da pagare e beh ci sono altri come ho detto la Germania ma anche la Svizzera dove la Svizzera al di là del 26% italiano deve pagare anche il 35% in Svizzera dove tra l'altro ci sono aziende davvero belle che a me piacciono tantissime penso a Nestlé penso a Roche giusto per dire le prime due aziende che mi vengono in mente che danno dei dividendi solidi sono aziende solide delle aziende che è vero veramente sono come dire quasi indistruttibili per il business che fanno quindi bisogna guardarle molto bene queste cose qui e ce ne sono invece tante come dicevo l'Inghilterra è una non ve le dico tutte dove si paga zero di tasse e vi da un grandissimo vantaggio al di là del fatto che bisognerebbe proprio saperlo quanto si paga di tasse così uno si regola anche su questo quanto per esempio deve investire per avere dei dividendi cosa fare per avere questa lista molto semplicemente va sul mio sito che troverete anche linkato nelle info nella descrizione del podcast è molto semplice tra l'altro è swintradingitalia.com tutto attaccato swintradingitalia.com va nel form contatti mi scrive voglio la lista tasse dividendi o qualcosa del genere e io sarò lieto di inviargliela via email ripeto questa è una cosa fondamentale avere una cosa di questa cioè con tutte le tasse che si pagano in tutto il mondo non solo di dividendi vi do proprio in generale vi può essere molto molto utile in futuro ripeto www.swintradingitalia.com c'è il form contatti andate lì e fate la vostra richiesta ragazzi con questo è proprio tutto a me non resta che ricordarvi che come al solito siete sempre sotto il fuoco nemico che come al solito che come al solito